Grande prestazione per Bushido Team di Sciacca alla Fiera Internazionale del Fitness, che si è tenuta nel weekend a Rimini. Il team del maestro Francesco Graffeo ha ottenuto ben sei primi posti, con Andrea Maniscalco, Davide Dasaro, Aurora Gennaro, Tony Margeri e Alex Sclafani, che si sono laureati campioni italiani di kickboxing per la federazione WTKA. I primi classificati andranno tutti in nazionale WTKA e ad ottobre disputeranno i campionati mondiali interfederali previsti a Massa Carrara. A Rimini, secondi posti per Simone Mistretta e Samuel Giglio e terzo posto per Jessica Ruffo. Una grande prestazione per il team Saccense. La Polisportiva Karate Judo Club di Sciacca ha partecipato al campionato italiano Karate AICS nella specialità Catà. Nella classe esordienti B, medaglia d'argento per Vito Errante. Nella classe esordienti A, nono posto per Leonardo Orsini. Nella classe Signores, infine, settimo posto per Michele Catanzaro. Soddisfatto il maestro Pippo Piazza. Presso il Palacatania, la Ippon Karate Lentini di Sciacca era presente con numerosi atleti di Sciacca e Ribera al Gran Premio Giovanissimi Figilcam, gara di attività motoria e abilità tecnica del palloncino. Gli atleti partecipanti andavano dall'anno 2012 fino al 2006 e sono stati Turturici Calogero, Giaimo Giorgia, Fauci Giuseppe, Marturano Sabrina, Gulino Gabriele, Gulino Cristian, Licata Emanuele e Ciancimino Sonia. A questa gara erano presenti ben 500 bambini provenienti da tutta la Sicilia. I tecnici Piero e Marco Lentini si dicono soddisfatti dei propri atleti vista la prima esperienza nel mondo delle competizioni. Prossimo appuntamento sabato 10 giugno con il campionato italiano Cadetti Kumite Figilcam.